Ho 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 ho, ciao bambini, oggi ho questa fantastica sorpresa per la mia Peppina, le deve piacere tantissimo, eccolo sto arrivando, eccomi papà mi hai chiamato? Sì, sì Peppina ti ho chiamato, guarda che sorpresa che ti ho preparato, ma dove? Non vedo niente, guarda bene là dietro, vediamo vediamo, wow i squishy balls dalle loro surprise, sono bellissime, vero bambini? Ho detto bambini che le piaceranno tanto tanto, adesso apriamoli Peppa, è vero, volevo aprirle tutte io, aspetta vediamo, wow ma io mi perdo là dentro, aspetta prendo un solo sacchettino e questo, ma l'ho preso al contrario, un altro, vediamo l'all surprise con slow super crazy, avete visto bambini vuol dire che lo schiaccia e lui si riprende subito? Però ci deve essere una collezione, eccola, ci devono essere, contiamole insieme, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sei bambini diversi per fare una collezione, sono tutte da collezionare, c'è una rocket ball, oh no non è a ball, aspetta, ah è una rocket play doll, eccola, c'è una bimba che canta, una bimba con capelli glitterati, la bellissima sirenetta, e anche la bimba con il ciuffo, ma come sono carine, apriamo, vediamo se facciamo tutta la collezione, Che c'è qua dentro? Che c'è? La bimba con capelli glitterati, adesso la schiacciamo, guardate bambini si sta già riprendendo, ma è super veloce, è morbidissimo, vediamo se rifà la mia faccina, oh guarda il naso di Peppa Pig, è carinissimo, allora uno, un palloncino da collezione c'è, vediamo di aprire un altro, La bimba con il ciuffo, che bella, vero bambini? Io sto facendo tutta la collezione, poi ce n'è un'altra che l'ho già aperta, guardate, questa è la rocket doll, bellissima, e ne abbiamo quattro, andiamo a trovare altre, eccola un'altra, ce lo faccio, sì, wow, quella che canta, il karaoke, come sono morbidi questi palanzini, E quattro, mancano altre due, vediamoci, abbiamo già la bimba con capelli glitterati, la bimba con ciuffo, oh, Serena, l'hai Serena? Abbiamo, abbiamo, è netto noi, non vuole, aprì il piusco, papà mi aiuti? Sì, certo Peppa, magia, 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 opla, ecco, adesso ne hai cinque, è vero, una, due, tre, quattro, cinque, e che manca? Aspetta, papà, c'è la bimba che canta, bimba con ciuffo, serenetta, bimba glitterata, e che manca? La bimba con i capelli rossi, è vero, ma dov'è? Dov'è, c'era qui dentro la scatola, no? Non ce l'ho, mi sa, papà, papà, mi manca la quinta, puoi fare una magia? Certo Peppina, uno, due, tre, eccola, sì, la bimba numero sei, adesso io ho tutta a collezione, bambini, guardate, allora la bimba che canta, la bimba che balla, con i capelli glitterati, con i capelli rossi, serenetta, e la roba, oh, bambini mi sono stancato un po' ad aprire questi fishbowl, ma sono così morbidissimi, e tutti da stringere e da collezionare, se te ce l'hai o ci piacciono tanto tanto, metti mi piace e guarda questi video qua su, che sono anche molto molto interessanti, ciao ciao bambini!